Nonostante la sua teneretà ed il periodo particolare dovuto alla pandemia, non ha saputo rinunciare alla sua grande passione per le due ruote. Così è salito in sella la sua moto, con la complicità del padre, per farsi un giro nel centro di Molfetta. Una bravata che però costata cara ad un bambino di soli sei anni e ai suoi genitori, multati dagli agenti della polizia locale. L'episodio è accaduto poche sere fa nei pressi della villa comunale. Durante un servizio di pattugliamento i vigili urbani hanno notato una minimoto girare attorno alla centralissima piazza Garibaldi. Una volta fermato il centauro, gli agenti si sono accorti con stupore che sotto il casco integrale si nascondeva il volto di un bambino di soli sei anni. In difesa del piccolo è intervenuto pochi secondi dopo il padre, invitato poi dagli agenti al comando della polizia locale per ulteriori accertamenti. Per il genitore è scattata inevitabilmente la multa, mentre la minimoto, parificabile ad un ciclomotore con velocità massima di 34 km orari, è stata sottoposta al sequestro. Oltre al coronavirus, fa sapere in un comunicato il comandante della polizia locale di Molfetta, Cosimo Aloia, dobbiamo continuare a garantire la sicurezza stradale in città. Nell'ultima settimana gli agenti sono intervenuti con oltre una decina di verbali che vanno dalla guida senza patenti alla guida di veicoli senza assicurazione fino al sequestro di mezzi privi di assicurazione e targa.